Eclissi La luna al mondo non sempre mostrava il suo viso triste, che la sua rabbia distruttiva graffiava. Ma c'era qualcosa di unico in quell'amore, un potere più forte di quella magia nera di rancore. Non sapevano da dove stesse venendo quell'improvvisa energia, ma i due si stavano avvicinando senza alcun rumore come per magia. All'improvviso erano faccia a faccia e una romantica oscurità le avvolgeva con le braccia eclissi.